augurare di cuore e auguriamo tutti naturalmente che il 2023 sia un anno più bello del 2022 se lo fa sempre però questo è il primo anno di tra virgolette di normalità dopo due anni passati due anni e mezzo passati fuori eclusi questo è il primo anno finalmente che torniamo alla normalità e questo ve lo dedichiamo di cuore buon giorni da 23 di tutte le dimensioni il fuoco dell'anima sono tutte le nove anni wow bella il fuoco vero la è visto e sì perché quella persona fa da stop c'è un problema di blocca è un maestro avevo visto che era tipo alberto è un alberto guarda quanti sono guarda quanti sono bravi guarda quanti sono 800 aspetta aspetta hai visto che si passano la fiacca a destra a sinistra la destra a sinistra la metto all'altro lato guarda questa questa meravigliosa musica a parte della scuola ha sceso a bordo di marileva grazie dell'applauso che non è facile so che a venti quanti ma ci fa piacere un augurio a tutti quanti a tutti voi un pensiero naturalmente magari a chi non c'è più a chi ci ha lasciato magari quest'anno o qualche anno fa magari anche dei nostri colleghi e un pensiero ci va sempre un pensiero a chi magari non può festeggiare un pensiero a chi soffre un pensiero perché e tutti speriamo che finisca presto finiscano presto le guerre dell'Ucraina ma tante altre un pensiero perché tutto sia meglio per un mondo migliore si dice sempre sono sempre frasi fatte guarda 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 l'Italia 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 che mi giunga guarda l'Italia che scende mi ricordi quello che è Marileva quello che è il Trentino Alto Attice quello che è la Val di Sole quello che è questo meraviglioso posto appunto di Marileva e della Val di Sole questi sono i nostri colori i colori del paese più bello del mondo il paese dell'Italia l'Italia 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 l'Italia